Ciao ragazzi, come state? Benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ci troviamo in questo bellissimo posto, lì c'è mia cugina. Praticamente siamo arrivati ad Avenio in scooter e l'abbiamo lasciato là nei parcheggi. Qua c'è il ponticello, poi siamo scesi di qua, qua ho messo lo zaino all'ombra che è pieno di bibite e cibo. Ci siamo messe qua piazzate, non c'è nessuno, l'acqua è tipo congelata ma è bellissima, si rinfresca un casino. E niente, praticamente Avenio è una piccola città del canto Ticino e qua il fiume è bellissimo, prosegue per tutta la Valle Maggia. Aspettate che mi ammazzo. L'ultima volta eravamo dall'altra parte dove c'è tipo una minidiga che è anche bello, solo che questa volta per cambiare un po' e visto che qua non arriva molta gente, ci stava venire qua insomma. Allora, l'acqua è tipo cristallina ma è bellissima. Porca, Emi sono caduta, non l'ho fatto un po' salo, è caduta in diretta. C'è ora è pieno di sassi, non l'ho visto. Lei è mia cugina, my little cousin. Quanti anni hai Emi? 18. 18, io ne ho 22. Dicono tutte che ci assomigliamo un botto, non so se per i capelli o per la fisionomia, però comunque l'acqua è bellissima, vero? È calda? Sì, dai, è calda. Niente, oggi è lunedì e visto che lunedì è che mia cugina non lavora perché fa la parrucchiera e i parrucchieri di lunedì non lavorano, io intanto mi ammazzo nei sassi e mi ho deciso di venire al fiume. Se venite nel weekend probabilmente è, non dico pieno, però c'è un sacco di gente. Nel prossimo vlog vi facciamo vedere magari la prossima spiaggetta, diciamo, dove c'è la diga nera, vero? Sì, la facciamo vedere. La diga nera di gomma. La diga nera di gomma. E niente. Quali sono le montagne? E la c'è il sole. E quello è un ponte. Quel ponte traballa un botto. E questo sono io. Comunque, vi ricordo che ogni lunedì e domenica, anzi ogni domenica e lunedì, io sono in live sul mio canale YouTube, LiveFortnite, a volte c'è anche questo essere. e... E' l'ora del panino. Questo mukbang improvvisato, praticamente quando chi vive in Ticino o chi vive in Svizzera non abbiamo il mare, quindi sfruttiamo i raghi, i fiumi che sono bellissimi. Sfruttiamo. E' vero. Sfruttiamo. Sfruttiamo i raghi. E i fiumi che sono veramente belli. Mi fiumi che sono bellissimi. 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 Aspetta, devi dire che non è sponsorizzato, se no mi bannano. Sono dei fiori di... Bach. No, che fiori di Bach. Sono, allora, parfum vanille, acceleré, naturalment, le bronzage, adesso i francesi mi... Mi hai convinta, la compro. Sono dei fiori di Tahiti. E tipo c'è dentro il grasso anche. Davvero? Sì. Fai vedere, avvicinano. Ecco raga, aspettate, faccio commento. Monoidi Tahiti, sono praticamente dei fiori di Tahiti. Esatto. Schiacciati, spappolati, non so come fatti. Ha una protezione zero, questa è veramente intensa. Io vi consiglio, se siete bianche e mozzarelline come me all'inizio. Esatto, come me anche. Non fatelo, prima vi dovete abbronzare un po' e poi metterla. Sì, ragazzi. La crema 50 sul viso sempre e ne dracazzi. Però oggi è tutto. Coro le sagite al termacologo, Jessica. Appunto qui in Ticino, abbiamo un sacco di fiumi belli. Di solito andiamo o ad Avegno, all'Usone, o anche a Locarno, semplicemente alla Foce. Perché il fiume è davvero pulito, perché poi scorre, c'è la corrente. Esatto. E poi è chiaro, puoi farci il bagno perché comunque l'acqua è alta. In alcuni posti l'acqua è bassa e non fai il bagno. Però ci sta comunque. Se no c'è anche il lago. Ad esempio ieri sono andata in barca. Sono uscite con due amiche. Abbiamo affittato una barca. Per tipo tre orette il pomeriggio abbiamo fatto il bagno nel lago. E niente, se passate per il Ticino, per Locarnese. Sarebbe che bello. Esatto. Se passate di qua è andata a Avegno, è andata alla Vertezzo. L'Avertezzo è bellissimo, però da quando c'è stato il video le Maldive di Milano, che un ragazzo ha spoilerato diciamo l'Avertezzo che prima era vuoto, adesso purtroppo ci va un sacco di gente e il posto è un po'... Veramente? Sì. Perché un tipo è andato, era soprannominata alle Maldive di Milano, essendo ad un'ora da Milano, però è in Svizzera. Da quando ho fatto questo video tutti ci vanno, infatti ci sono un sacco di auto, però inquinano anche nel senso lasciano le bottiglie, il cibo ed è un casino e l'acqua là è veramente bella. Infatti io di solito ci vado anche in inverno a scattare qualche foto o ci andavo anche ne è stato a fare il bagno, perché è bellissimo, ma adesso è impossibile. Sì, che bello sto colore dell'acqua, che cavolo. E peccato che c'è qualche nuvola in cielo. Comunque, niente, adesso metto via il telefono che facciamo un po' il bagno prima che tornano le nuvole a coprire il sole e noi ci rivediamo magari tra una mezz'oretta o qualcosa del genere. ci siamo spostate perché dove eravamo prima c'era troppo vento. Adesso siamo arrivati al Merish. Eh? Sì, quello di prima, siamo arrivati al Merish. Infatti dalla clip di prima vedete che ci stavamo spostando in moto. Adesso percorriamo la strada e appena arriviamo vi faccio vedere la seconda metà di oggi. Cosa stanno facendo qua? Che figo. Siamo giunti a destinazione. Emi? Bella raga. Siamo arrivate al Merish. Con i nostri amici. Next stop. Bella raga tutti. Stiamo di nuovo cambiando location. Stiamo andando a fare il bagno con due persone. e stiamo andando via dal Merish con mio fratello e il suo boy. E mio boyfriend. E stiamo andando alla foce. Andiamo a fare il bagno alla foce. terza ed ultima location. Ciao a tutti raga. Siamo arrivati alla terza location di questo meraviglioso video tour. E siamo allocando nella foce come potete vedere. Questa è il mio cugino. E niente, ora ci troviamo. Ciao. Ciao. Terza location. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividetelo. Se non vi siete ancora iscritti al canale, in basso qui a sinistra, attivate la campanella per non perdervi nessun mio video. Se questo vlog vi è piaciuto, condividetelo ovunque. E niente, seguitici su Instagram. Semi e Leandi. Lascio comunque qua i nomi sotto, se volete, nell'info box. Noi ci rivediamo con un prossimo vlog. E niente. Ciao. 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 Grazie a tutti.